A Milano, si susseguono varie interpretazioni riguardo alla situazione tra Chiara Ferragni e Fedez. C'è chi ipotizza che si tratti di una mossa di marketing per deviare l'attenzione dai problemi giudiziari di lei, mentre altri sono convinti che tra i due ci sia una vera crisi. Quel che sembra certo è che dallo scorso domenica il rapper ha abbandonato la casa dopo una lite furiosa con la moglie. Secondo quanto riportato durante Pomeriggio 5, avrebbe contattato un'agenzia immobiliare di fama a Milano già prima di domenica, cercando un appartamento in affitto a City Life, già arredato, con un canone mensile di circa 17.000 euro, durante una trasmissione televisiva, è emersa un'indiscrezione da parte di Davide Maggio, esperto di televisione e giornalista. Con una certa circospezione, Maggio ha suggerito che qualcuno molto vicino a Chiara Ferragni potrebbe averla confortata, per quel che mi risulta, la Ferragni, diciamo così, c'è stato qualcuno che l'ha aiutata molto. Ora non chiedetemi altro posso dire che una persona, in particolare, è stata molto presente e solidale. Quando gli è stato chiesto di fornire nomi e cognomi, ha suggerito cripticamente all'inviato della trasmissione di andare in piazza della Scala, indicando quel luogo come possibile indizio per identificare chi si tratta. Al momento sono solo voci di corridoio, forse inevitabili quando la fine di un matrimonio, soprattutto uno così noto, diventa di dominio pubblico. Ma sarà stata questa vicinanza a innescare la lite tra i coniugi? La notizia della presunta separazione non arriva inaspettata. Già dal Festival di Sanremo 2023 si parlava di crisi tra i due. Poi, i problemi di salute di Federico Lucia avevano momentaneamente messo in secondo piano le difficoltà coniugali, comunque mai celate, anzi, protagonisti della seconda stagione di Teferragnez. Negli ultimi mesi, a partire dal caso Balocco, Chiara e Fedez si sono mostrati sempre meno insieme e durante il Festival di Sanremo di quest'anno lui era addirittura volato a Miami da solo. Anzi, in compagnia della misteriosa assistente personale. Nonostante ciò, dieci giorni fa la coppia aveva festeggiato San Valentino con una cena romantica, un gesto che aveva tranquillizzato i fan. Le storie stringate su Instagram in occasione del 14 febbraio avevano temporaneamente soffocato le voci di crisi, ma avevano comunque evidenziato un cambiamento radicale nel modo in cui i Ferragnez comunicavano la loro vita di coppia, molto diversa dalla scintillante proposta di matrimonio sul palco dell'Arena di Verona nel maggio 2017. 2017. In poco tempo, la situazione deve essere precipitata fino all'uscita di casa di Fedez. Dato il silenzio stampa dei diretti interessati, si cerca conferma o smentita della crisi tra i contatti diretti. Sono tre settimane che non vedo più Fedez. Prima lo incontravo spesso mentre passeggiava nel parco qui vicino al centro del quartiere, da solo o con il cane. Ora non si vede più nessuno. Sembra scomparso, ha dichiarato un edicolante del quartiere City Life di Milano, dove si trova l'attico dei Ferragnez. Questo sembra confermare le voci secondo cui Fedez avrebbe lasciato la casa in cui viveva con Chiara Ferragni e i due figli, Leone e Vittoria, già da qualche giorno, se non addirittura più tempo fa.